Oh mio Dio, sono andato alla velocità della luce, qualcuno mi fermi, sono un cannone, sono un cannone, guardate che bella, è bellissima! Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Oggi mi trovo nell'1.13, nello snapshot, perché vi voglio fare vedere un command block veramente fighissimo, costruito dall'ingegnere Rosso, lo youtuber che fa tutti quanti i command block bellissimi di Minecraft. Come vedete, quello che ci servirà sarà semplicemente una crafting table, quindi, ehi, mi raccomando, aprite bene le orecchie e guardate attentamente. Dobbiamo tirare una crafting table per terra e poi una spagna di amante, BOOM! Ci spunterà una mini casa delle spade, la mini casa delle spade, le ragazzine già hanno la mini casa delle bambole, noi la mini casa delle spade. Mi raccomando, lascia un bel mi piace a questo video, già da adesso, perché per forza, perché ti assicuro che ci saranno delle spade mozzafiato. E adesso direi di spawnarla, ok, spawniamo la nostra mini casa delle spade, che come vedete ragazzi, oh mio Dio, è piccola, cosa sta succedendo? Guardate, è bellissima! Entriamoci dentro, wow! Oh, sta lagando, ok, sto lagando perché non ho l'optifine ragazzi. Siamo entrati nella casa delle spade, guardate quanto è bella! Hey, ciao villager! Cosa mi dai tu? Uh, mi dà tantissime spade! Ovviamente dobbiamo prendere tutti i materiali per avere queste spade, quindi, vabbè, per fortuna noi siamo in creativa, quindi due blocchi di diamante. Ok, te li do subito, signor villager, strano con la skin strana. Due blocchi di diamante e una nether star. Ok, adesso che abbiamo collezionato tutte queste cose, ci abbiamo messo veramente tantissimo tempo, direi di iniziare a prendere tutte le spade, quindi 1 e 2, poi 1 e 2, ci prendiamo pure questa, molto bene. Ci prendiamo anche questa spada schifosa in legno, sì, 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 e poi ci prendiamo l'ultima spada, ovvero questa qua. Ah no, ce n'è un'altra, ah, mi sono dimenticato, aspettate, mi serve una pozione di speed, fatemela craftare immediatamente, deve essere una speed 2. Uh, l'ho fatta, ok, eccoci, siamo pronti, siamo pronti e ci prendiamo anche questa spada. Poi le abbiamo finite tutte quante, come vedrete, ragazzi. Ma le sorprese non finiscono qua, perché ci basterà tirare una spada in diamante e poi due blocchi di diamante e si crafterà la super spada gigante. Oh mio Dio, che cos'è? Guardate quanto è grande! No, no, non ci posso credere, è enorme, è enorme. Allora, ragazzi, usciamo da questo mondo così ve le faccio vedere tutte quante per bene. Mi raccomando, troverete il link qua sotto in descrizione per andare a guardare il video di chi ha creato questa mod, che poi non è una mod, ma è un command block, per l'1.13. Allora, iniziamo in ordine, ragazzi, la spada dell'Evocatore. Che cos'è la spada dell'Evocatore? Sicuramente vi starete chiedendo. Prendiamo, per esempio, dei Creeper. Ecco, sappiamo bene tutti quanti che i Creeper sono fastidiosi e li odiamo tutti quanti. Chi non odie Creeper, ragazzi, dai, siate sinceri, cercate di non mentire. Game mod survival. A me basterà caricare questa spada, ragazzi, quindi dovremmo aspettare un pochettino. Oh no, sarà finito sott'acqua! No, 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 aspettate, devo riuscire! Ok, siamo usciti, perfetto. Mi basterà caricare questa spada, ragazzi, poi dropparla e guardate cosa succede! Oh mio Dio, spunteranno dei guardiani pronti a difendermi! Quindi questi guardiani, ovviamente c'è un cooldown di qualche secondo, questi guardiani, ragazzi, saranno disposti a difendermi al costo della loro vita. Io non sto facendo assolutamente nulla. Ah! No, i Creeper vogliono esplodere! Siccome non li abbiamo ancora uccisi, questi Creeper dobbiamo trovare un modo per fare del serio danno. Proprio dobbiamo fargli del male, perché ancora non sono morti tutti quanti. E no, la risposta non è attaccarli con la spada. Ora vi faccio vedere io qual è la risposta. Siete pronti? Siete carichi, ragazzi! Beh, dovete essere carichi perché adesso lancieremo un vero e proprio oggetto. Wow, che figata! Dove sta andando quella spada? Ma dove va? Nello spazio! Sto utilizzando la spada di Elon Musk. Ora guardate cosa succede. Tra non molto, pioverà qualcosa. Signori Creeper, io fossi in voi, mi sposterei da là. Oh no! Cos'è un meteorite? C'è un meteorite! Scappa! Scappa! Si salvi chi può! Si sal... Ah! Oh mio Dio! No, 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 no! Vuole distruggere la terra! Wow! Wow! Ok, i Creeper sono ancora in vita perché per qualche strano motivo si sono riusciti a salvare. Sentite, Creeper, mi avete dato fastidio. Ora mi ammazzo. Ecco, vi ammazzo io. Ci penso io, tranquilli. Come verrete, ragazzi, la spada di Elon Musk è un semplice razzo che una volta lanciato in aria diverrà una specie di meteorite, ecco, e distruggerà praticamente tutto quanto. Lo volete vedere di nuovo? Io lo voglio vedere di nuovo. Pronti? 3, 2, 1, boom! Oh! Guardate quanto è bello! È un razzo! È un razzo! Portami con te! Portami con te! Voglio andare sulla luna! E ovviamente ci dobbiamo anche spostare da qua perché sennò fa un casino assurdo, ragazzi. Lagga tantissimo e ti ammazza. La maggior parte delle volte ti ammazza questo coso. Quindi, vabbè, io sono in creativa, ovviamente. Quindi non lo vedete. Ma guardate che lag assurdo! Wow! Wow! È veramente bellissimo! Poi abbiamo una delle mie spade preferite. Qual è il modo migliore per battere un Creeper con le esplosioni? Sì, avete capito bene? Vi faremo assaggiare un pochettino della sua stessa medicina. Sei pronto, signor Creeper? Mi basterà puntarla... No, no. Quello di Trimè non deve esplodere. Mi basterà puntarla verso di lui, ragazzi. Poi droppare la spada e... Patapam! Lo faremo esplodere! Lo faremo esplodere perché questa spada, infatti, funziona come della TNT. La cosa bella è che le persone davanti a voi, quindi, per esempio, i vostri nemici, non hanno la più pallida idea di questa cosa. Perché sento dei Creeper? Ok. Non hanno la più pallida idea di questa cosa. Che voi state ricaricando una bomba e poi... Boom! Lo fate esplodere! Lo fate esplodere in aria! È bellissimo! Ovviamente non dobbiamo sempre fare del male a questi poveri mostri. Certe volte possiamo utilizzare la loro vita per rigenerare la nostra. E quindi dovremmo utilizzare la spada dell'amore. Vedete, ora mi stanno facendo malissimo. Poi io li attacco una volta e rigenero la vita. Guardate che bello, ragazzi! Sono tornato full vita e in più mi regala anche un cuoricino in più. Perché, come vedete, ragazzi, questa è la spada dell'amore. La spada dei cuoricini. Quanto siete belli, zombie! Non fa molto. Anzi, credo proprio che non faccia assolutamente del danno. Dovrebbe fare zero da quel che ho capito. Però mi rigenera la vita. Quindi qualora dovesse scappare, perché qualcuno vi sta inseguendo e vi sta dando dei problemi, potete utilizzare la spada dell'amore quando avete poca vita e rigenerate la vita togliendo i cuori a lui, all'avversario. Un'altra spada difensiva, invece, è la spada delle trappole. Mi basterà buttarla per terra e BOOM! Tutti saranno congelati per ben 4 secondi. Se questa, ragazzi, non è la spada più difensiva del mondo, io non lo so, allora. Che spade avete visto, voi? È impossibile. Questa è la spada più difensiva del mondo. Perché se state scappando da qualcuno, la buttate per terra e lo fate diventare un cubetto di ghiaccio. Un ghiacciolo! No! Io voglio il ghiacciolo! No, non è più un ghiacciolo. Adesso è uno zombie. Quindi, fino ad ora, vi ho fatto vedere 3 spade d'attacco e 3 spade difensive. E adesso è arrivato il momento di farvi vedere un miso tra le due. Ecco, una spada sia d'attacco che di difesa. Perché questa è la spada più epica del mondo. Guardate cosa succede. È la spada di Flash! Sono pronto! Wow! Wow! No, 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 no. Vado alla velocità della luce. Oh, mio Dio! Sono andato alla velocità della luce! Qualcuno mi fermi! Sono un cannone! Sono un cannone! Guardate che bella! È bellissima! Ovviamente non ve lo devo dire io, ragazzi, che questo è un vantaggio assurdo nei vostri nemici. Perché siete velocissimi per scappare, ma velocissimi anche per attaccarli. Quindi gli date un colpo, poi... Sono qua, zombo! E lo massacrate. In pochi secondi, ragazzi, l'avete distrutto. Ma adesso si passa alla chicca delle chicche. Il motivo per il quale avete cliccato tutti quanti in questo video, ovvero la spada gigante. Guardate quanto è grande! No, non è normale una spada del genere, ragazzi. Cosa farà mai una spada del genere? Guardate quanto è grande! È gigantissima, ragazzi. Allora, prima di tutto, è lenta. È molto, molto lenta. Perché mi sembra normale. Vedete? Anche io corro super lento rispetto a quella di Flash che mi fa andare alla velocità della luce. Questa mi fa andare molto, molto lento. Però, ragazzi, c'è un knockback pazzesco! Oh, mio Dio, che volo gli ho fatto fare! È bellissima! Questa spada è veramente... Wow! Questa spada è veramente bellissima, ragazzi. Ed è anche potentissima. Infatti, one-shotta. C'è una spada veramente assurda. Ehi, come ti permetti, tu, scheletro? Vuoi volare? Vuoi volare? E vola, allora! Vola via! Vai verso la luna! Oh, mio Dio, altro che la spada di Elon Musk. Questa è la spada migliore di tutti quanti. È bellissima ed è gigantissima! Stupido, scheletro. Lasciami stare, devo fare l'auto del mio video. Vieni qua! Ok. Ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace per questo video. Soprattutto se vi è piaciuta la spada gigante. Perché è bellissima. E fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo video. Dal vostro imperatore Kendall è tutto. Andatemi a seguire su Instagram e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!